Ma quante persone erano? Due. Due persone? E dove sono andati? Eh, non l'ho visto più. No, dico dove sono saliti? A secondo piano. Erano armate? Sì, con la pistola. Che ora è caduto? Dieci e mezza, dieci e mezza alle 11.4. Ma hanno chiesto soldi alle persone? No, 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 hanno fregato tutte le borse dei reparti e roba, e sono scopate via. Non hanno parlato? Avete sentito? Niente, niente. Erano mascherati o no? Liberi, senza maschere, senza niente. Si vedevano benissimo? Sì, sì. Grazie. Arrivederci.